Momento speciale, concertino dal balconcino, c'è una sigla impronunciabile anche per un Jugoslavo dai Balcani, Anikissa, Anikissa, io so solamente che sono la nostra punta di diamante, associazione, diciamolo così, AA, associazione autistici, saranno con noi in questo rivolgimento alla cittadinanza un comizio dell'associazione autistici Tiziana e Riccardo, un applausone! Grazie, lui è più alto, allora è vero, il nostro nome è impronunciabile, Ansa, associazione nazionale genitori soggetti autistici, è nato negli anni 80, non abbiamo mai voluto cambiarlo perché rappresenta un punto fermo della città di Torino e un punto fermo a livello nazionale, per cui abbiamo aggiunto pezzetti, Piemonte Onlus, sezione di Torino, però siamo sempre gli stessi, siamo dei genitori, siamo volontari e abbiamo una mission, la mission è quella di sensibilizzare e di informare sull'autismo. Daria e Maxine sono stati lungimiranti, ci hanno permesso un punto di sensibilizzazione fuori da ogni canone, fuori da ogni scuola, fuori da una struttura sanitaria e questo per noi è un motivo di orgoglio, è un motivo per cui io, la nostra missione è quella di batterci per la sensibilizzazione, per la conoscenza dell'autismo anche tra le persone che magari, forse, un autistico non lo incontreranno mai, ma l'alta frequenza ormai di diagnosi ci porta a uno su cento nati, per cui è quasi impossibile non incontrarne. Per quello abbiamo deciso di raccontarvi in dieci punti quello che un bambino autistico vorrebbe che tu, proprio tu, sapessi. uno, io sono un bambino, il mio autismo è parte di ciò che sono, ma non è tutto ciò che sono, tu sei sovrappeso, miope o maldestro, magari queste sono le prime cose che noto di te, ma in realtà tu sei più di questo, no? Tu sei una persona con pensieri, sentimenti, preferenze, idee, sogni. Poiché sei un adulto, tu hai il controllo sul modo in cui ti definisci, se vuoi far emergere una caratteristica sulle altre, puoi farlo. Io, che sono un bambino o un ragazzo, non so ancora chi sono. Due, i miei sensi non si sincronizzano. Il normale flusso di immagini, suoni, odori, gusti e sensazioni tattili, che probabilmente tu neanche noti, per me è addirittura doloroso. Spesso ho l'impressione che l'ambiente mi sia ostile. Ti sembra, ti potrei sembrare isolato, aggressivo o cattivo, ma sto solo cercando di difendere. Il mio udito è acutissimo, il mio olfatto potrebbe essere ipensensibile e i miei occhi bombardati. Purtroppo il mio cervello non riesce a filtrare tutti gli import e vado in tilt. Tre, distingui fra ciò che non voglio fare, che scelgo di non fare, e non posso fare, che non sono in grado di fare. Io ti ascolto quando mi dai istruzioni, ma non ti capisco. Quando mi parli dall'altro lato della stanza, io sento... Luca, piuttosto vieni più vicino, richiama la mia attenzione e parla con parole semplici. Luca, rimetti il libro sulla schivania. Luca, è ora di mangiare. Così è più facile per me obbedire. Sono un pensatore concreto, interpreto il linguaggio letteralmente. Quando dici c'è un tempo da lupi, io mi aspetto di veder spuntare una rimane feroce da un momento all'altro. Dimmi invece, piove e fa molto freddo. Giochi di parole, modi di dire, sfumature, allusioni, sarcasmo, metafore, non hanno nessun effetto su di me. Mi sta dando delle scosse incredibili al naso. Non si sa chi ha più elettricità. Tu o il microfono? Prova adesso che... Un po' più basso, ok, cazzo. Fai attenzione a tutti i modi con cui cerco di comunicare. Per me è difficile dirti cosa ho bisogno se non riesco a descrivere le mie sensazioni. Fai attenzione al mio linguaggio del corpo, alla mia tendenza a isolarmi, ad agitarmi, ad altri segni che significano che c'è qualcosa che non va. È tutto lì da interpretare. Fammi vedere. Ho un pensiero visivo. Ho bisogno di vedere qualcosa per impararlo, perché le parole dette per me svaniscono presto. Fammi vedere più volte come si fa qualcosa anziché dirmelo e basta. Con tanto esercizio paziente riesco ad imparare. I supporti visivi creano una transizione indolore tra le mie attività e mi aiutano a gestire il tempo e a soddisfare le tue aspettative. Sette. Concentrati e lavora su ciò che posso fare, anziché su ciò che non posso. Come ogni altra persona, non posso imparare nulla in un ambiente in cui mi fa pesare sempre il fatto che non sono bravo e non vado bene. Cerca dei punti forti in me e li troverai. Per tutte le cose esiste più di un modo giusto per riuscirci. Aiutami nelle interazioni sociali. Potrebbe sembrarti che io non ho voglia di giocare con altri bambini al parco, ma semplicemente non sono capaci di iniziare una conversazione o di unirmi ai loro giochi. Insegnami come fare. Io posso dare il mio meglio nell'attività di gioco strutturate. Non sono capace di leggere le espressioni facciali, il linguaggio del corpo e l'emozione dell'alto, però posso allenarmi. Se mi metto a ridere perché una bimba cade dallo scivolo, non è perché sia divertente, è perché non so cosa dire. Aiutami a chiedergli. Ti sei fatta male? Nove. Identifica cos'è che innesca le mie crisi. Gli scopi di rabbia e i crolli emotivi sono molto più terribili per me che per te. Se avvengono è perché uno dei miei sensi o più di uno è andato in sovraccarico o perché sono stato spinto ben oltre i limiti delle mie capacità sensoriali. Questa domanda che a volte bisognerebbe porsi. Quanto stanno male loro, non quanto paura fanno a noi. Dieci. Smettila di pensare a quello che sarebbe potuto essere se io non fossi autistico. Neanche tu hai soddisfatto ogni aspettativa che i tuoi genitori avevano per te. Non ho scelto io di avere l'autismo. Senza il tuo supporto, le tue opportunità di crescere e diventare indipendente sono scarse. Anzi, invece con il tuo aiuto, le possibilità sono migliori di quando tu possa credere. Dobbiamo avere tanta pazienza. Amami per quello che sono e vediamo dove riusciremo ad arrivare. Siamo ben temprati in questa azione. Siamo qui al fianco di Daria e Maxine. Grazie. Comunque, come avete ben potuto vedere, noi ragazzi autistici abbiamo... Sì, in realtà essere autistici non vuol dire semplicemente avere determinate difficoltà e avere determinati punti di forza, ma non vuol dire assolutamente cosiddetto essere scemi, assolutamente no. Cioè vuol dire capire le cose in una determinata cosa da come vengono capite dai neurotipici. Bravo. Bravo. Grazie.